benvenuti a questo appuntamento con la tecnica della scuola oggi parliamo di valutazione tradizionalmente e culturalmente noi siamo stati abituati ormai da sempre con i voti e quindi questa novità che tra l'altro non è una novità perché in passato è stata già riproposta questa forma così di giudizio descrittivo in qualche modo adesso però ha una precisa valenza che cercherò adesso di così comunicare a voi spiegare per quello che sono gli elementi necessari di conoscenza affinché in occasione della consegna del primo documento di valutazione che normalmente avviene conclusione del primo trimestre ma ci sono scuole che fanno anche il trimestre verrà consegnata appunto alle famiglie e verrà spiegata e l'ordinanza è proprio recente come vedete la numero 172 del 4 dicembre scorso che si rifà alla legge che è stata proprio promulgata a luglio per quanto concerne la descrizione degli apprendimenti e quindi la valutazione cosiddetta descrittiva che cosa naturalmente io vi riporterò qua degli stralci ripresi sia dalla lettera d'accompagnamento ma dalla stessa ordinanza dalle linee guida e cercando di estrapolare quelle informazioni ripeto che possono esservi utile l'ordinanza determina appunto le modalità di formazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica finale degli apprendimenti e naturalmente per quanto concerne alunni ed alunni della scuola primaria quando noi parliamo di valutazione periodica e finale ci riferiamo a quella che avviene durante il cosiddetto scrutinio ripeto nel caso delle scuole che si organizzano in quadrimestri primo quadrimestre e quello finale secondo quadrimestre cosiddetto viceversa se si è organizzato in trimestri questa decisione spetta al collegio dei docenti chiaramente l'organizzazione di questi periodi però ecco parliamo appunto in riferimento alla valutazione quindi di scrutinio finale quella periodica e quella finale però attenzione la la formazione del giudizio deve essere effettuata per ciascuna delle discipline di studio previste dalle nuove indicazioni nazionali ivi compreso perché da quest'anno troverete anche l'insegnamento cosiddetto trasversale di educazione civica quindi troverete anche una valutazione in merito a questa disciplina quindi come cambia la valutazione per le bambine e i bambini della scuola primaria perché ripeto per la scuola del primo ciclo è relativamente a solo ai piccoli quindi non alla scuola secondaria di primo grado quindi la giudizio descrittivo che diciamo troverete riportato nel documento di valutazione e una prospettiva sarà formulata in una prospettiva cosiddetta formativa e nella logica della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti quindi non dovete aspettarvi perché ripeto noi siamo e tendiamo ovviamente a semplificare associando sempre tutto al voto perché il voto ormai ripeto culturalmente ci permette di comprendere meglio anche insomma a tutte le al di là del livello culturale no delle singole famiglie voglio dire delle persone però permette di comprendere cosa significa un 6 lo associamo a una sufficienza cosa significa un 10 che di solito lo associamo a un'eccellenza qua si tratta non più di attribuire un colore di questo genere ma ecco formulare un giudizio che permetta nello stesso tempo di promuovere gli apprendimenti favorire gli apprendimenti al di là di quello che il livello effettivo di apprendimento quindi ogni scuola quest'anno è chiamata ad esercitare appunto nella propria autonomia quello che è la elaborazione del giudizio descrittivo chiaramente rifacendosi un po quella che è la tradizione vedete qua tenendo conto delle modalità di lavoro della cultura professionale della scuola però ecco lo sforzo che dovrà essere effettuato dalla scuola quindi dai docenti è quella di rendere chiaro la comunicazione rendere chiara la comunicazione quindi attraverso naturalmente un linguaggio che sia accessibile ma anche attraverso un confronto con alunni e anche che soprattutto con i genitori naturalmente spiegando anche ai bambini in questo caso una cosa significa quello che poi sarà scritto nel documento di valutazione quindi la naturalmente quindi dobbiamo vedere la valutazione degli apprendimenti della scuola primaria come che insieme all'insieme della valutazione dell'intero processo formativo deve essere in grado di esprimere questa valutazione la moderazione che naturalmente i singoli alunni maturano in riferimento a quelli che sono i traguardi di competenza definiti dall'indicazione nazionale e deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto ma che significa ecco magari a volte diamo per scontato ma sappiamo cosa sono le indicazioni nazionali dovete sapere che con l'autonomia scolastica il ministero quindi che rappresenta ovviamente l'autorità quindi di governo dal punto di vista di gestione della scuola deve individuare quelli che sono i traguardi di competenza a livello nazionale e anche i cosiddetti obiettivi specifici di apprendimento poi ogni singola scuola deve declinare questi obiettivi e questi traguardi rispetto a quella che è la realtà scolastica nella quale si trova nella realtà ovviamente nella quale opera quindi queste indicazioni ci forniscono già in qualche modo quelli che sono i traguardi previsti per gli alunni e per i bambini in questo caso ma anche la scuola nel curriculum di istituto va a definire questi obiettivi di apprendimento ma come le declina questi obiettivi di apprendimento nazionale dove le andiamo a leggere ecco questa la domanda nel piano dell'offerta formativa adesso triennale come sapete adesso viene detto PTOF mentre la prima era semplicemente il POF perché era annuale e comunque se voi andate a leggere anche nei singoli siti istituzionali della scuola troverete il piano triennale dell'offerta formativa dove potrete leggere gli obiettivi d'apprendimento che la scuola esprime nel proprio curriculum di istituto e quindi potete anche quindi leggere quelli che sono per ogni anno gli obiettivi d'apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale all'ordinanza vengono anche l'ordinanza viene accompagnata anche da alcune linee dalle linee guida che è così hanno il compito di orientare le scuole rispetto a quella che è l'elaborazione del giudizio descrittivo e quindi cosa esprime queste cose esprimono queste linee guida per la scuola dando da una definizione che cos'è la valutazione descrittiva la valutazione descrittiva consente di rappresentare in trasparenza gli articolati processi cognitivi e metacognitivi e emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti con una descrizione autenticamente analitica affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti quindi cosa emerge da quello che abbiamo letto emerge la persona dell'allievo del del bambino della bambina quindi con l'ottica di valorizzare come vedete tutti gli aspetti della personalità e della diciamo funzionalità no della della nostra del nostro modo di essere del nostro parliamo ovviamente riferimento ai bambini quindi come vedete non è una un lavoro semplice cioè non valutiamo più una un apprendimento il famoso compito in classe o l'interrogazione ma andiamo a valutare qualcosa di più completo quindi ecco in una parola la valutazione assume una valenza formativa quindi ha una funzione formativa c'è lo diventa lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni per sostenere potenziare la motivazione a continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico quindi si tratta anche di individuare quelli che sono anche le necessità individuali le caratteristiche le specificità del singolo alunno in modo da sostenerlo motivarlo a continuare a migliorare e a crescere a garanzia appunto come abbiamo letto del successo formativo e scolastico quindi la valutazione per l'apprendimento quindi le informazioni che l'insegnante rileva man mano gli fa le proprie verifiche sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e guardate qua i loro stili di apprendimento perché ognuno di noi soprattutto in età infantile emerge una propria modalità di apprendere che è specifica che è privilegiata poi magari l'adulto ne imparerà altre strategie modificando quindi le attività in funzione di ciò che è stato osservato e partire da ciò che può essere valorizzato quindi come vedete qua viene ad innescarsi un'attenzione a quelle che sono anche i processi di insegnamento ecco della dinamica insegnamento apprendimento quindi l'insegnante che può anche modificare adattare il proprio insegnamento ai bisogni reali di ogni singolo alunno quindi la valutazione inoltre documenta anche lo sviluppo dell'identità personale promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze abilità e competenze quindi io qua aggiungerei anche l'espressione quello che magari ecco in questo periodo di iscrizione quando parliamo di orientamento no l'orientamento non è solo il momento in cui il ragazzo di terza classe di scuola secondaria di primo grado sceglie la scuola secondaria di secondo grado ma l'orientamento è tutto ciò che accompagna cioè è tutto il vissuto scolastico l'esperienza che fa a scuola ma oggi sappiamo anche come molte esperienze di apprendimento avvengono anche al di fuori della scuola no in orario extrascolastico e così via quindi ecco la valutazione deve essere anche come dire una sorta di documentazione di tutto ciò che il processo che il bambino in questo caso la bambina ha in qualche modo si possa possa manifestare durante la sua il suo iter scolastico quindi come vedete dagli obiettivi quindi il percorso è obiettivi di apprendimento quindi la scuola adesso avrà il compito di definire in maniera chiara gli obiettivi di apprendimento e come devono essere espressi anche in maniera che siano leggibili ai genitori quindi per fare un esempio pratico se io ho in prima classe di scuola primaria ecco così è molto più semplice devo insegnare l'obiettivo principale è quello di imparare a leggere e scrivere e far di conto non sappiamo questo ormai così nel detto popolare diciamo è immediata la comprensione dell'obiettivo quindi l'obiettivo deve essere scritto bene quindi bambino deve imparare a leggere a scrivere e far di conto quindi questo obiettivo di apprendimento dovrà essere quindi leggibile al genitore compreso e anche il giudizio relativo a questi apprendimenti dovrà essere in maniera descritto in maniera appunto chiara quindi le indicazioni nazionali rimangono sempre il punto fermo di riferimento naturalmente non si può prescindere da quelle che sono le indicazioni del ministeriali come declinate nel curriculum di istituto abbiamo detto il piano triennale dell'offerta formativa ma anche attenzione si può anche differenziare ulteriormente l'obiettivo rispetto a quello che è la specificità della singola classe una cosa è una classe una scuola che opera in un quartiere popolare una cosa un'altra realtà è una scuola che opera ovviamente in un determinato contesto tessuto sociale magari più culturalmente magari è più più ricco e costituiscono sempre il documento di riferimento principale per individuare definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento oggetto della valutazione ripeto periodica finale di ciascun alunno in ogni disciplina quindi più specificatamente la normativa indica che gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere conoscenze e abilità ritenute indispensabili a fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze qua andremo anche un discorso più tecnico però visto che mi rivolgo a voi i genitori dovete capire che dovete sapere che noi siamo stati abituati a quello che viene detto in gelgo il nozionismo cioè quello di imparare dei contenuti e poi ecco la famosa interrogazione e poi ripeterli qua invece parliamo di contenuti naturalmente che sono necessari perché la scuola deve anche proprio fornire e indicare quelli che sono i contenuti da apprendere ma allo stesso tempo deve esercitare quelle che sono le abilità connesse ecco l'insieme di queste due dimensioni quindi la conoscenza l'abilità naturalmente anche il sapere essere come si viene detto in termini tecnico poi rappresentano la competenza la competenza che ovviamente è tale quando diventa spendibile al di fuori del contesto scolastico l'ordinanza ci indica anche che i livelli di apprendimento sono definiti in quattro livelli appunto in via di prima acquisizione base intermedio avanzato quindi se noi vogliamo così individuare chiaramente quando parliamo di via di prima acquisizione significa che ancora il bambino non ha maturato quelle competenze necessarie quindi quelle acquisizioni ovviamente quelle abilità necessarie poi abbiamo il livello base e naturalmente fino ad arrivare all'eccellenza per fare quali sono però le dimensioni ecco che vengono definite sempre da documento i livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni chiaramente poi la scuola può aggiungere anche altre la singola scuola autonoma quindi l'autonomia dell'alunno la tipologia della situazione nota o non nota le risorse della continuità e ci viene fornito anche un esempio che adesso andiamo a vedere vedete qua ecco quando si tratta per esempio leggiamo quello in via di prima acquisizione l'alunno porta a termine i compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente quindi siamo in una situazione ancora di fragilità rispetto agli apprendimenti mentre avanzato all'opposto l'alunno porta a termine i compiti in situazioni note e non note mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove in modo autonomo e con continuità e poi ovviamente ci sono i livelli intermedi quindi il documento di valutazione quella che diciamo tradizionalmente si chiama la pagella no il documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti delle manifestazioni dell'apprendimento risultati in modo continuativo quindi non troveremo più il voto ma troveremo quello che appunto viene scritto qua nella normativa ci viene indicato dalla normativa le valutazioni in itinere cosa si intendono così perché anche voi siete in qualche modo coinvolti perché quando chiedete ai docenti periodicamente come va mio figlio e naturalmente fino ad oggi si è detto beh sulla sufficienza magari si va a vedere un voto certo con i piccoli magari più dialogata io immagino la scuola secondaria si parla solo di voto no in realtà quando si parla di valutazione di itinere significa ecco qua ciò che il docente utilizza come sia come strumenti di verifica per rilevare quegli elementi che poi saranno oggetto di valutazione quindi per intenderci il compito in classe l'interrogazione la prova quello che appunto dice l'osservazione quello che decide di utilizzare l'insegnante e quindi la valutazione di itinere sempre in coerenza con i criteri le modalità definite nel piano triennato dell'offerta formativa resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscono però all'alunno in modo pienamente comprensibile il livello di padronanza dei contenuti verificati quindi ora uno può mettere può utilizzare uno strumento potrebbe essere un giudizio sintetico anche lo stesso voto cioè questo viene lasciato alla libertà delle singole scuole naturalmente meglio evitare ormai conviene secondo me suggerisco di utilizzare sempre strumenti che siano come dire poi leggibili anche nella valutazione descrittiva che poi si andrà a leggere appunto nel documento di valutazione comunque questo viene lasciata per quando concede alla valutazione in itinere cosiddetta libertà ai docenti e quindi al collegio di docenti che magari adotterà magari una modalità comune in modo che sia univoca alla comprensione per le famiglie quindi la restituzione agli alunni e ai genitori della valutazione itinere e quindi come avviene attraverso i diversi strumenti cioè quindi la documentazione di ciò che avviene viene appunto rilevata e comunicata attraverso dei strumenti di valutazione e troverà uno spazio adeguato e praticabile all'interno del registro elettronico o di altri strumenti comunicativi quindi chi di voi già nelle scuole ha la possibilità di accedere al registro elettronico troverà una modalità comunicativa che permetterà di comprendere il livello diciamo di apprendimento del proprio figlio in quel periodo in quel dato mese per esempio in modo da consentire comunque una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascuno perché l'obiettivo è quello di far sapere poi alle famiglie e chiaramente come come sta avvenendo tutto il percorso di apprendimento del proprio figlio e chiudiamo con un esempio che ci viene fornito sempre dalle linee guida ne sono diverse ne ho preso uno in questo caso quindi quello che troverete poi di fatto nel documento di valutazione sarà da una parte vedete la descrizione di quelli che sono gli obiettivi d'apprendimento con indicatori e descrittori quindi uso delle fondi nel caso di questa materia è la storia quindi uso delle fondi organizzazione delle informazioni strumenti concettuali il livello raggiunto quindi come vedete sembra un ipotesi un esempio e poi ecco il giudizio famoso descrittivo quindi come vedete è abbastanza ricco per la famiglia cioè mentre il voto esprimeva in toto tutto ciò che l'insegnante qualche modo voleva comunicare ma senza andare nel merito della singola ecco vedete il singolo obiettivo adesso voi avete modo avrete modo di leggere l'obiettivo ben chiaro il livello maturato quindi raggiunto dall'alunno e quindi giudizio che riassume in maniera anche propositiva sempre ai fini di una valutazione che faccia e che promuove faccia crescere promuove quindi il successo formativo di ogni singolo alunno vi ringrazio